Il Visual Squash è una tecnica di visualizzazione di PNL che serve per raggiungere gli obiettivi. Come si realizza questa tecnica? In prima istanza è necessario definire un obiettivo. Definire un obiettivo, una persona può scriverselo, un obiettivo conviene definirlo in modo specifico, misurabile, accessibile, realistico. E una volta che sta, è temporalmente collocato ovviamente, una volta che l'obiettivo è stato definito, la persona sarà scritta su un foglio, deve crearsi un'immagine mentale relativa a questo obiettivo, come se lui o lei fosse già, avesse già raggiunto questo obiettivo. Può quindi viversi anche le sensazioni, cosa può provare avendo raggiunto questo obiettivo, come si sente avendo raggiunto questo obiettivo, ma la cosa importante è definirlo attraverso un'immagine della mente, un'immagine mentale, una visualizzazione. Visualizzare se stesso o se stessa nel momento in cui l'obiettivo è stato già raggiunto, quindi l'obiettivo è stato già superato. Dopodiché si deve creare un'immagine mentale dello stato attuale, dove si trova, quindi nello stato in cui l'obiettivo non è ancora raggiunto. Vanno poi connesse queste due immagini attraverso questa tecnica che si chiama visual squash, cioè la persona chiude gli occhi, si rilassa, e una volta che ha chiuso gli occhi e si è rilassato, inizia a crearsi l'immagine mentale della situazione attuale su tutto lo schermo, ma in piccolo, a sinistra dello schermo, mette un puntino che rappresenta l'immagine dell'obiettivo raggiunto, che si era già costruito prima. Quello che dovrà fare poi è far crescere rapidamente l'immagine dell'obiettivo raggiunto, e mentre questa immagine cresce va a cancellare l'immagine vecchia. Va ripetuta questa tecnica per un certo numero di volte, 3, 5, 7, ma l'importante è dare continuità, in modo tale che tutti i giorni ci si allenerà sempre di più, l'immagine sarà sempre più definita, verrà sempre più facile fare questo esercizio. E bisogna ripeterlo per un certo numero di giorni, almeno una ventina di giorni. Conviene ripeterlo nelle fasi, diciamo, in cui naturalmente le persone sono rilassate, quindi sicuramente avere svegli al mattino, prima di andare a dormire la sera, e sarebbe meglio anche farlo durante una, diciamo, una pausa della giornata. Quando si impara, poi dopo un po', inizialmente ci può volere tempo, ma quando si impara, poi per fare tutto bastano giusto pochi minuti, 5, 6 minuti, e si riesce a fare tutto completamente. E si noterà che pian piano si imparerà sempre di più a fare bene questo esercizio. Nel momento in cui si sarà acquisita bene questa competenza, e verrà ripetuta la cosa per un certo numero di volte, si programmerà il nostro cervello automaticamente a raggiungere l'obiettivo predefinito. Cioè è come se si creasse un'autostrada che ci porterà dritti verso il raggiungimento dell'obiettivo. Questo è quello che va fatto, questa è la tecnica del visual squash, è molto potente ed ha veramente ottimi risultati. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog www.soluzionevip.com Ciao a tutti!